A questo incontro con la termografia che è un altro tassetto della nostra attività professionale che serve per trovare una tradizia di lavoro che sicuramente può essere di sviluppo ancora prodotto. La termografia, come credo che abbiate già intuito, non si ferma soltanto al fatto che dalla spettografia si possa fare soltanto il certificato di destinato a tutto quello che può essere utile per il momento per la nostra attività, però tenendolo come punto di partenza perché lo sviluppo di questa materia può essere molto più grande come utilizzo, come nicchia di lavoro anche per noi ciò. L'ingegnere è stato sempre una figura attenta alla nostra attività professionale non soltanto per i programmi che già conosciamo ma per una serie di attività che è stata sempre collegata con lo sviluppo della nostra stessa attività professionale a partire dalle attività professionali ai programmi di fotografia e tutto quanto altro. Ma mi fermo qui perché la materia del discutore oggi è peraltro e quindi approfittiamo di questa delucidazione per portare avanti il nostro disegno di formazione professionale. Grazie. Io gradirei dare, inversamente per altre occasioni, un taglio strategico a questo piccolo seminario. Io vi passerò tutta una serie di informazioni che sono completamente sufficienti per poter inquadrare per bene il problema termografia, i campi di applicazione e le opportunità di business. però vorrei ricordarvi una cosa che probabilmente sfugge, che è una battuta molto semplice. In buona sostanza oggi se voi non vendete qualcosa a qualcuno è perché l'altro non sa che voi ce l'avete. Chiaro ragionamento? Quindi secondo me oggi al centro della professione comunicare. Oggi è fondamentale che non perdiate l'occasione di raccontare al collega, all'impresa, al familiare che voi avete a disposizione una competenza, questa competenza serve a sviluppare relazioni. A differenza di qualche anno fa dove funzionavano quelli che vengono definiti legami forti per cui il professionista lavorava perché c'aveva l'amico nella pubblica amministrazione, conosceva il politico. Oggi il professionista è esposto a una nuova dinamica che si chiama comportamento speculativo del consumatore. Cioè la vostra professione, il vostro servizio è diventato prodotto. Quindi il concetto è, caro geometra, quanto mi costa fare questo accadastamento? Quando vi arriva questa domanda potete essere sicuri che un po' prima o un po' dopo la stessa domanda è stata rivolta ad un altro collega. Quindi voi siete esposti al comportamento speculativo del consumatore. Questo oggi è diventato un fatto centrale rispetto a questa situazione, che è una situazione che è venuta fuori da poco, perché che cosa è successo? I nostri vecchi clienti in una qualche misura sono usciti fuori dal business. Cioè oggi ci sono nuove generazioni, che ottenevano 60 anni, 50 anni, erano i proprietari di case, che bisognava vendere, frazionare, ristrutturare, costruire. Oggi a queste persone ci sono sostituite delle persone che hanno a disposizione i mezzi tecnologici. Oggi tutti quanti vanno su internet, tutti quanti utilizzano il telefonino, tutti quanti fanno la domanda, sì ma quanto mi costa? In sostituzione del legame forte è venuto fuori il legame debole. Quindi oggi il professionista come deve rispondere? Deve rispondere con più professionalità. Deve rispondere con più competenze. Perché, tenete conto anche di un'altra cosa? Oggi non si può fare niente senza l'ausilio del professionista. Vi do un parametro. Nel 2010 il mercato dei servizi di ingegneria in Italia valeva 20.7 miliardi di euro. Il 17% di questi 20 miliardi di euro ce l'avano gli ingegneri, il 15% degli architetti, il 13.7%. Sembrerebbe che i geometri nell'ambito della gestione degli studi professionali, cioè di professionisti indipendenti, non le strutture consorziate. Il professionista autonomo è il comparto che ha retto meglio l'ondano della crisi. Ha perso un punto percentuale. Gli altri comparti sono arrivati a perdere il 30%. C'è un fatto. La somma di ingegneri e architetti supera 400.000. I geometri paganti la casa sono circa 80.000. Adesso migliaio più, migliaio meno. Se si va ad analizzare la fetta dei servizi che gestisce il professionista geometra, questa fetta dei servizi è di gran lunga superiore ai colleghi, architetti oppure ingegneri. Per quale motivo? Perché il geometra sta al centro di dinamiche trasversali. Oggi il geometra ha l'opportunità unica di estendere le proprie opportunità di sviluppare business. Cosa deve fare? Deve semplicemente raccontare in maniera più strutturata che è in grado di sviluppare business, che è in grado di poter sviluppare, implementare tecnologia, che è in grado di accelerare i processi di business. Quindi oggi il geometra diventa, come si può dire, c'ha una nuova opportunità. Per quale motivo ha la termografia? La termografia è un comparto che sta salendo a 2.0. Cioè oggi tutto, in una qualche misura risente della situazione che è sotto gli occhi di tutti, la termografia sta salendo a 2.0. Ma non è che sta salendo la termografia, sta salendo il comparto del risparmio energetico. Perché alla base c'è il risparmio energetico. Quindi la termografia non è la soluzione al problema. La termografia è una delle possibili chiavi di attacco a questo nuovo segmento di opportunità. Cosa vedremo adesso? Adesso vedremo nei dettagli a come funziona la termografia. Paradossalmente le chiavi di lettura della termografia ovviamente partono della termodinamica. Quindi dovremmo riprendere qualche concetto di termodinamica. Sono dei concetti molto semplici. Io l'ho semplificato, sono la portata di tutti. Io vi assicuro che quando andrete via da qui, sarete in grado di poter impostare e leggere un termogramma. Che non è una cosa per tutti. Soltanto una nota di colore. A prescindere dal dato economico, che ci vedete qua nelle cartellette, oggi acquistare una macchina termografica è una cosa che ha portata di tutti. La macchina termografica parte da 995 euro. Ci potete fare praticamente tutto. Questa è già una macchina di categoria professionale ed è acquistabile a 161 euro in mese. Per darvi un taglio operativo. Se si parlava... Sento se avessimo un po' di luce che riesco a vedere meglio. Se avessimo parlato un paio d'anni fa, i numeri qua erano diversi. Qua la giornata avevamo 12.000. Adesso è diventata una cosa, come si può dire, a livello di un pc portatico. Che cos'è la termografia? La termografia all'infrarosso consente di leggere i valori della temperatura dall'immagine. Qualunque oggetto ad una temperatura superiore allo zero assoluto emette radiazione all'infrarosso, invisibile all'occhio umano. Più la temperatura di un oggetto è elevata, maggiore sono le radiazioni IR che emette. In buona sostanza, tutti quanti i corpi ad una temperatura superiore allo zero assoluto emettono radiazione infrarossa. Esiste una legge che è basata sulla capacità di emettere radiazione infrarossa sulla base della temperatura che si chiama legge di Boltzmann. È un'equazione. Questa equazione è montata all'interno della camera termografica. Cioè quindi la macchina termografica non è in grado di leggere la temperatura, è in grado di calcolare la temperatura sulla base della quantità di informazione IR emessa dall'oggetto. Chiaro il ragionamento? Che cos'è in buona sostanza una termocamera? Bene, una termocamera è un traslatore dallo spettro dell'infrarosso allo spettro del visibile. Questa è una telecamera. Cosa fa una telecamera? Legge la luce, la trasferisce su un supporto e ci consente di poterla osservare. Una termocamera legge le informazioni nella zona dell'infrarosso. Il concetto è questo, l'occhio, il nostro occhio, non è in grado di leggere l'infrarosso. Quindi la termocamera che legge l'infrarosso non ci farebbe vedere queste informazioni a meno che non viene effettuata una traslazione. Chiaro il concetto? Quindi viene captata informazione IR, viene traslata nello spettro del visibile come a livelli di grigio oppure a bande di colore. Quindi quando va realizzato un termogramma non necessariamente il termogramma è a colori. Il fatto che il termogramma sia a colori è una questione di convenienza visiva. Avete presente nelle immagini del telegiornale quando ci stanno gli aerei che abbattono i ponti con i missili? Ricordate come è fatta l'immagine? È fatta in bianco e nero? Quella è un'informazione IR. Perché non è fatta a colori? Perché disturberebbe la visuale del pilota. Cioè tecnicamente il fatto che noi osserviamo un termogramma è una questione di rappresentazione per vederla a livelli di grigio oppure a colori. Su una macchina FLIR voi cliccate il bottone e scegliete come volete visualizzare queste informazioni. Chiaro? Quando sulla slide compare questo bollino ruso in alto a destra fateci attenzione perché le ore da cartelletta c'è una piccola verifica dell'apprendimento ci sono dieci domande se rispondete a otto domande correttamente vi verrà rilasciato un attestato di partecipazione direttamente da FLIR. Loro vogliono vedere se alla fine sono state trascrite queste informazioni. Sono tutte quante domande molto semplici. Qui esiste la domanda e c'è scritta pure la risposta. Bene? Quindi vi chiedo di stare concentrati. Quindi le termocamere osservano l'energia termica irradiata dagli oggetti non vedono la temperatura le temperature sono calcolate tramite le variabili che l'utente fornisce alla termocamera. Che cos'è un termogramma? È un'immagine prodotta da una termocamera IR ed è chiamato termogramma. Il termogramma consente di visualizzare tramite una scala cromatica in falsi colori la distribuzione del calore dello scenario inquadrato. Esistono due tipologie di termografia termografia qualitativa e termografia quantitativa. Diciamo che un termogramma è quantitativo quando noi per ogni pixel dell'immagine abbiamo a disposizione l'informazione sotto forma di temperatura. Diciamo che un termogramma è qualitativo quando non abbiamo mappe di colore chiaro? Cioè non abbiamo nessuna informazione termica paradossalmente il termogramma più importante è questo questo è il termogramma che sviluppa business questo è un termogramma che sviluppa business questo sviluppa molto più business di questo tra un attimo capiremo perché quindi abbiamo detto che una termocamera è un dispositivo che è in grado di convertire una radiazione IR sotto forma di temperatura perché c'è un'equazione che lega la temperatura alla quantità di IR emessa da un oggetto bene nella formuletta che è una formulona del calcolo compare un coefficiente che si chiama emissività l'emissività di un corpo è la sua capacità di radiare energia termica in relazione alla sua temperatura reale indica in sostanza quanto è efficiente il nostro radiatore termico ed è un numero compreso tra 0 e 1 maggiore è l'emissività più reale è la lettura della temperatura dell'oggetto da parte della termocamera ieri per fortuna nel campo del building il coefficiente di emissività di questa superficie con stato di tonoco è pari a 1 circa a 1 l'emissività di una superficie riflettente che potrebbe essere per esempio questa lastra di un plexiglas è più vicina allo 0 chiaro? allora diciamo che quando il coefficiente di emissività è prossimo all'1 la lettura è più reale quando il coefficiente è prossimo allo 0 la lettura è disturbata dalle condizioni al contorno facciamo un esempio questa è una lastra di plexiglas io metto la termocamera qui però questa riflette se la termocamera a quest'angolo di incidenza osserverà una parte del mio riflesso io le metto IR quindi sono esattamente come una lampadina questi raggi si riflettono nella parte di vetro e vengono intercependo la termocamera cioè la termocamera rileverà il mio IR allora quando il coefficiente è prossimo allo 0 l'informazione IR viene intercettata dall'ambiente circostante quando il coefficiente è prossimo all'1 l'informazione dipende esclusivamente dall'oggetto chiaro? come si gestisce questo processo? sulla termocamera si imposta coefficiente di investività c'è una voce di mio che dice vetro superficie di alluminio liscio superficie di alluminio satinato e un coefficiente bene? qualche domanda? sì prego è questo quando è un singolo materiale? quanto è un complesso? è unificio? nessuno ha toccato il futuro se avete la pazienza di aspettare qualche secondo ci arriverete subito un altro parametro importante è la risoluzione in termini di pixel la risoluzione in termini di pixel è un parametro che ci consente di poter capire quale tipo di termocamera scegliere che cos'è? allora guardate questa sagoma è la stessa sagoma che sta qui ingrandita voi volete acquistare una termocamera che vi dà questo scenario un pixel che prende tutto oppure un pixel che prende una parte della superficie cosa gradiveste? quella di sinistra cioè vuol dire che se io tengo una termocamera che mi piazza più pixel in un oggetto so quanto va la temperatura qui e quanto va la temperatura qui se invece io ho soltanto un pixel che riesce a prendere tutto l'oggetto mi darò la temperatura media chiaro il concetto? come funziona questo gioco? conoscete questo apparecchio qui? questo apparecchio qui è un termometro IR cioè io clicco in un punto mi dà la temperatura di superficie attenzione non è il raggio laser che misura il raggio laser mi dice dove sta misurando all'interno che cosa c'è? c'è una lente di ingrandimento che focalizza quella porzione di superficie su un sensore IR e mi dà la temperatura di quella regione di superficie una termocamera IR fa la stessa procedura se questa termocamera fosse 100 pixel per 100 pixel è come se fosse equivalente a 10.000 termometri IR chiaro? quindi una termocamera in un attimo vi dà un quadro generale di un fotogramma un termometro IR vi dà la stessa informazione di tipo puntuale i processi sono gli stessi per poter ridurre l'interferenza al segnale IR intercettato tutti quanti gli schermi sono fatti di un materiale che si chiama germario quindi se decidete di acquistare una termocamera state attenti quando pulite l'obiettivo fa un umido leggero come quello per gli occhiali non ci mettete le dita perché sono tutti quanti cristalli pregiati in buona sostanza una macchina più alta risoluzione consente di sviluppare un termogramma e non solo colpo una macchina con meno pixel dovrà eseguire più termogrammi il termogramma risultante finale è esattamente lo stesso quindi voi se avete una macchina con maggior risoluzione potete effettuare con un solo shot una presa di una porzione di superficie se avete una macchina con meno pixel dovete fare più termogrammi c'è però anche un altro particolare immaginiamo per un istante che questa macchina abbia 100 pixel quindi io vi metto a questa distanza e osservo una parte di superficie diciamo che osservo un metro di superficie se ha 100 pixel orizzontali e verticali qual è il livello di dettaglio che riuscirà a prendere la macchina? se la macchina osserva un metro e ha 100 pixel a una determinata distanza un pixel quanti centimetri vale? un centimetro chiaro vorrà dire che tutti quanti gli oggetti che hanno un diametro inferiore a un centimetro verranno mediati in un pixel allora se io devo intercettare questo cavetto questo filo ci sarà un filo diciamo un tubicino che è 7 mm probabilmente io non lo vedrò cosa devo fare? devo portarmi a una distanza per cui io vi ascattere per esempio un pixel in 5 mm allora dovrò avvicinarmi in modo che la mia superficie diventa mezzo metro chiaro il concetto del pixel? allora quando avvisate una camera dovete pensare ok che cosa osserverò quale sarà l'impatto del termogramma che io devo analizzare qual è il livello di dettaglio che devo poter intercettare e già iniziamo a capire come dobbiamo regolarci quando scegliamo la risoluzione in termini di pixel tra un attimo vedremo dei casi pratici di applicazione quindi risoluzione più elevata maggiore distanza un altro parametro che influenza la macchina il termogramma è la sensibilità in termini di temperatura quando voi scegliete un data sheet dovete dare priorità a tutta quanti una serie di informazioni ma in maniera prioritaria a due numero di pixel che ha la macchina e sensibilità sotto forma di temperatura cioè qual è il gap minimo di temperatura che è in grado di leggere una macchina termografica che cosa vuol dire? facciamo un esempio rapidamente così iniziamo a vedere una macchina termografica in funzione questa è una macchina di tipo professionale quindi va bene nel settore del building macchina molto sensibile macchina con alta risoluzione obiettivo intercambiabile allora se adesso io faccio questa operazione a terra con il tacco della scarpa che è di gomma faccio questo e osservo il termogramma un attimo che la sta completando lo memorizzo si capisce? come è successo? ho strisciato il tacco a terra c'è stata tri è aumentata la temperatura di quanto? di pochissimo e la macchina l'ha intercettata è chiaro? di quanto è aumentata? è una frazione di grado quindi avere una macchina molto sensibile vi consente di poter apprezzare delle variazioni molto basse di temperatura arriviamo tra un attimo all'importanza strategica di poter realizzare intervalli di temperatura modesti chiaro il concetto? questo è un termogramma che ci dà un'informazione riguardo la carenza di isolamento termico più è chiaro maggiore la dispersione un colore chiaro è associato a una temperatura più alta un colore scuro a una temperatura più bassa che sia il colore con bianco e nero non cambia niente la domanda che vi faccio e ci iniziamo a ricollegare alla domanda del collega è questo è un diagramma è un termogramma qualitativo o quantitativo? quantitativo non abbiamo nessuna informazione termica abbiamo anche un altro tipo di problema chi riesce a individuarlo rapidamente? la luce interna viene sotto che è in cura no, non è un problema di luce la termocamera non vede luce la termocamera la vede luce perché se vedesse luce l'interno al di là della finestra io non ho il valore che c'è nella finestra puro ma il valore che viene pure dal scaldamento della camera risposta buona risposta buona il concetto è questo presumibilmente la superficie vitrea qui la superficie è rugosa quindi siamo in presenza di un termogramma qualitativo che inquadra due superfici con diverso coefficiente di emissività se la macchina fosse tarata su un coefficiente di emissività pari a 1 l'informazione termica in termini di temperatura qui sarebbe coerente con la tabellina che ci dà la macchina viceversa se io devo osservare se ho bisogno di informazione termica di superficie su una superficie vitrea io devo impostare sulla macchina il coefficiente di emissività per una superficie vitrea però noi possiamo dire abbastanza agevolmente che qui abbiamo in questa regione le informazioni non ci interessano perché noi siamo interessati a questa regione quindi il termogramma è coerente perché quello che noi stiamo ricercando è una dispersione in una regione di cui presuniamo di stimare ragionevolmente per i coefficienti di emissività c'è di 1 prossimo a 1 prossimo a 1 allora io posso dire dal punto di vista correttivo se questo avanzato funziona meglio di questo avanzato che ci hai messo oppure che cosa non ti hanno messo per avere questa situazione dal punto di vista poi quantitativo è possibile fare delle elaborazioni per sapere quanto costa questo e quanto costa questo chiaro ci arriviamo per un attimo una botola sul soffitto non isolata termicamente allora per poter comprendere questo concetto noi abbiamo creato una sorta di piccolo esercizio se adesso io sviluppo il termogramma di questa scatola di cartone vediamo che cosa succede avvicino la macchina la punto sulla scatola che cosa si vede basta un testimonio non ci siamo persi niente chiaro flat superficie omogenea non c'è differenza di colorazione il mio coefficiente impostato coerentemente io lo punto qui e dico guarda la temperatura superficiale clicco il laser qui vale 15.8 gradi quanto è precisa è molto precisa molto precisa potete essere sicuri che la vale 15.8 gradi c'è un dettaglio la temperatura all'interno di questa scatola quant'è ragioniamo in maniera scientifica questa scatola sta qui da quando io sono arrivato quindi ha avuto tutto il tempo di andare a regime a regime che cosa vuol dire allora ipotizziamo noi abbiamo un bel contenitore abbiamo due contenitori uno è pieno l'altro è vuoto con un doppicino a livello di vaso intercomunicante giusto? se apre il rubinetto che succede? c'è un travaso i due liquidi si bilanciano dopo una situazione transitoria a regime raggiungono il stesso livello quello che accade per la temperatura accade pure per i fluidi è uguale ok? quindi possiamo dire la temperatura all'interno è la stessa ci siete? adesso cosa faccio? ci siamo portati un fuono industriale passiamo anche il secondo e ripetiamo il termogramma vediamo qualche secondo che si vede? che si vede? dovete ragionare la maniera scientifica che si vede? c'è proprio la figura che si vede qual è? riuscite a vedere? cerchi con c'è giusto? quali passaggi che sono? chiaro? allora come si legge questo processo? noi avevamo una situazione a regime quindi equilibrio termodinamico quindi equilibrio termodinamico dal punto di vista alternativo T con 2 è uguale a T con 1 ci siete? cosa abbiamo fatto? abbiamo indotto un ondo termico cioè gli abbiamo mandato un'onda termica dovete immaginare che è partita un'onda termica che è investita la superficie come si è comportata l'onda termica ha attraversato gli strati e che cosa ha incontrato? immaginiamo di discretizzare questo pannello esattamente con i pixel della termocamera cioè se la termocamera avesse 100 pixel e questa scatola è larga a 30 centimetri vuol dire che un pixel vale 3 millimetri giusto? quindi immaginiamola 3 millimetri per 3 millimetri discretizzata per che profondità? beh possiamo ipotizzare alle circa 10 millimetri come sono fatti i 10 millimetri sono fatti da 2 millimetri di cartone e 8 millimetri d'aria in questo pixel mano a mano che arrivo sul tubo di PVC troverò 2 millimetri di cartone e 8 millimetri di PVC ci siete? quindi possiamo dire che millimetro quadrato per millimetro quadrato per la profondità la trasmittanza è diversa giusto? quindi dove la trasmittanza è più bassa passa meno calore dove la trasmittanza è più alta passa più calore ma se passa più calore che cosa succede alla superficie di contatto? si riscatta o si raffredda? si raffredda si raffredda prima perché cosa ho fatto? ho inviato un'onda termica l'onda termica ha impattato era una situazione T con 2 uguale a T con 1 e ha aumentato il T con 2 e c'è stato un flusso entrante millimetro per millimetro ha reagito secondo la trasmittanza di quella piccola sezione dove la trasmittanza era più elevata si è raffreddato prima perché è passato prima il calore all'interno quindi meno resistenza chiaro? quindi trasmittanza elevata resistenza più bassa perché uno è l'inverso dell'altro con la conducibilità allora possiamo dire che il nostro stato cartone più aria resiste meglio dello strato cartone più pvc chiaro? ci siamo messi all'interno di uno stato che si chiama termogramma attivo cioè noi abbiamo condizionato il termogramma il sistema per fare in modo da eccitarlo e rilevare con un termogramma il suo stato allora la chiave di lettura non c'entra niente con la termografia c'entra con la termodinamica quindi noi abbiamo una chiave di lettura che è basata sulla trasmittanza allora noi abbiamo letto il termogramma sulla base di informazioni commessa alla trasmittanza chiaro il concetto? allora adesso voi iniziate ad avere tutte le informazioni per interpretare correttamente questo termogramma che è qualitativo o quantitativo? quantitativo perché c'è qui una leggenda e ovviamente il software legato che vi dice qui quanto va la temperatura e qui quanto va la temperatura è coerente il termogramma? cioè coerente vuol dire ogni pixel è coerente con le informazioni di temperatura? sì perché riteniamo che siano tutte superfici dello stesso materiale quindi il termogramma è coerente giusto? se questo qua era un pezzetto di vetro potevamo dire che era coerente dappertutto tranne che sul vetro in questo caso il termogramma è un po' di tipo coerente come leggiamo questa situazione? la superficie è la stessa quindi noi qui applichiamo il concetto della trasmittanza vuol dire che in questa regione abbiamo un pacchetto di isolamento che ha una trasmittanza diversa da questo pacchetto di isolamento giusto? questo isolamento è meglio o è peggio? è peggio perché conduce meglio chiaro? ovviamente il concetto di meglio e peggio dipende dall'ambiente il concetto è se noi vogliamo blindarci nel riscaldamento questo non è buono ma se questa qui invece fosse una situazione del tipo noi vogliamo gestire meglio il refrigeramento questa non è buona è chiaro? quindi dipende da quello che stiamo facendo è chiaro il concetto? quindi noi possiamo dire che in questa regione ci sta isolamento riusciamo a vedere in profondità? certo che riusciamo a vedere in profondità adesso io non so questo qua che se è cartongesso oppure se è un pilastro di isolamento questo è il isolamento noi possiamo fare un termogramma ovviamente non vedremo niente cosa dobbiamo fare? lo eccitiamo con il mondo tecnico con il foro e facciamo un termogramma e vediamo quanti ferri ci stanno riusciamo a vedere anche la sezione del ferro? benissimo se tengo una macchina con più pixel riesco a sapere quanto è il mio ferro che sta all'interno quanto riesco ad andare in profondità riesco ad andare in profondità in relazione ad un altro parametro che si chiama trasmittanza periodica cos'è la trasmittanza periodica? immaginiamo per un istante che questo qua è il nostro blocchetto è la nostra superficie di isolamento bene allora supponiamo di avere questo blocco noi abbiamo scelto come professionisti un blocco isolante cioè questo sandwich che è fatto da intono calze pannello di polistirene eccetera eccetera ha questo spessore dietro questa stanza questa è la mia parete dietro questa stanza io dormo da questa parte batte il sole quando arrivi il sole diciamo 9 del mattino se questo blocco ha una buona resistenza quindi bassa trasmittanza però ha poca massa quindi poco denso io diciamo dopo un'ora e mezza rileverò all'interno l'aumento per esempio di un grado di temperatura vorrà dire che se io il sole arriva alle 9 io alle 10 e mezza alle 11 devo attaccare il condizionatore se invece questo blocco qui potrà essere buono e anche denso quest'onda all'interno impatterà con ritardo vuol dire che il condizionatore attacca a 10 e mezza l'attacca a metodo giorno o a luna chiaro allora quando voi scegliete l'isolamento per il vostro cliente vi dovete correre il problema perché ricordiamo che da oggi voi dovete interessarvi anche del problema del condizionamento estivo e non soltanto il problema del riscaldamento invernale siamo tutti quanti preparati in materia di certificazione energetica facciamo un rifasso veloce sapete qual è la definizione di edificio di nuova costruzione esatto allora tutto quando quello che è stato realizzato di cui è stato ottenuto permesso a costruire lì eccetera eccetera dopo ottobre 2005 viene definito edificio di nuova costruzione per tutti gli edifici di nuova costruzione voi siete obbligati a progettare ai sensi del reggio su risparmio energetico per le ristrutturazioni se superate il 20% di volumetria dell'involto dell'edificio dovete su questo 20% in più ragionare in termini di risparmio energetico questa è in buona sostanza l'abbiamo semplificata proprio all'inizio come si va a progettare i sensi della legge bisogna prendere tutta una serie di parametri e rispettarli quando si parla di riscaldamento invernale il vostro elemento di riferimento è la zona climatica e la trasmittanza di muri soffì parete infis eccetera quando si parla di condizionamento estivo dovete tener conto di trasmittanza periodica cioè come si comporta per il condizionamento per il raffrescamento sono due parametri poi eventualmente lo possiamo proprio aggiungere non lo vedo vabbè comunque se ritenete possiamo fare un seminario specifico su come si fanno questi conti per stare a regime facciamo un passo avanti allora i ponti termici sapete cos'è un ponte termico? è una regione una regione superficiale un'area che è la superficie di contatto tra regioni con comportamenti termodinamici diversi quindi quando vai prendere due oggetti che hanno comportamenti termodinamici diversi e li mettete al contatto si stabilisce un ponte termico che è una cosa virtuale è proprio un'area quello è un ponte termico chiaro? i ponti termici sono essenzialmente di due tipi questo si chiama ponte termico geometrico questo si chiama ponte termico costruttivo se adesso ne marciamo un termogramma di questo ambiente vediamo subito in che condizioni siamo allora chiedo scusa ormai siete dei professionisti io ho inquadrato questa sezione questa sezione che cosa possiamo dire? leggiamola tecnicamente cosa possiamo io ho fatto questo se si capisce? adesso ormai siamo degli esperti no? come possiamo dire? come la leggiamo questa situazione? sono dei modi termi subito e che viene una dispersione superficiale però qua ci sta un'altra situazione interessante la luce non c'è niente allora dal punto di vista del fenomeno questa qua è cieca cioè nello spettro del visibile questa non vede niente questa vede nello spettro una parte del lì tra l'osso allora abbiamo qua una situazione che vale leggiamola tecnicamente leggiamo tecnicamente mi dispiace non abbiamo il caletto di connessione ma del resto non è manco possibile se io metto qui io leggo questo anzi il programma qualitativo quantitativo quantitativo o informazioni certa la macchina adesso sto leggendo io se mi sposto il pulsore sono le temperature vedete qui la temperatura vale 14.7 in questo punto vale la bellezza di 18.9 il calore cioè qualche isolamento noi non vediamo oltre noi leggiamo il termogramma questo termogramma ci dà l'informazione che ci dice questa regione qui vale 19 gradi a fianco vale 14 gradi sono 4 5 gradi di differenza è una quantità enorme il termogramma è quantitativo la superficie è regolare quindi l'informazione è certa cioè significa che io posso gestire un contenzioso perché su questa informazione voi potete fare una relazione di supporto a un contenzioso allora io leggo qui qua qualcuno che sta facendo un piacere cioè quello dove abbiamo di sopra là ci viene il calorifero ma se tiene il calorifero in questo punto che cosa possiamo deturre? che qua probabilmente ci sta un tramezzo ma se qua ci sta un tramezzo qua che ci doveva stare? sono delle considerazioni giusto? prima considerazione seconda considerazione sì io vedo questa cosa qui però io vedo pure questa cosa qui vuol dire non esiste nessun isolamento tra solari significa che chi riscalda di più solvenziona quello che riscalda di meno quant'è la quantità di energia che sta dissipando sotto forma di denaro ve lo dico subito dopo lo vedremo per ogni metro quadrato all'ora se si sta riscaldando quello di sopra a gasolio si sta spendendo 0.8 euro se si sta riscaldando a gas si sta spendendo 0.3 per qualche cosa euro chiaro? cioè quello di sopra non lo sa ma sta spendendo circa 0.8 euro all'ora per questa situazione qui oltretutto io vedo 19 gradi la temperatura per legge deve essere 20 gradi ma se io nell'ambiente che sta sotto mi sono là 19 gradi se io metto la mano là è tiepido sopra la temperatura quant'è? chiaro il ragionamento cioè io con un termogramma sono fatto tutta una serie di ragionamenti mi sono fatto un ragionamento per cui ho detto isolamento qua non ne parliamo proprio è un edificio di nuova costruzione dipende vado a vedere le carte e verifico se è un edificio di nuova costruzione se non è un edificio di nuova costruzione allora mi contendo di quello che è ma non vuol dire che sta a posto vuol dire che deve essere in regola con la registrazione precedente con la 10 70 eccetera eccetera dopo ottobre 2005 i parametri sono cambiati quindi se questo fosse un edificio di nuova costruzione è ragionevole pensare che questo non è stato fatto agli sensi del risparmio energetico la relazione tecnica vi l'ha depositata se la relazione tecnica contiene se fosse un edificio di nuova costruzione delle informazioni per cui quello che è stato scritto è falso però è vero questa è una funzione di 30% per la progettazione sul professionista se quello che sta scritto è vero però è falso questo sarà il 70% come il fatto non costituisca reato il fatto costituisce reato se c'è stato un certificato che è seguito all'atto di compravento perché adesso è obbligatorio un'altra cosa importante quando svanogliati i certificati non ci mettete classe F classe G quelle classi pessime perché quello in ogni caso è un falso cioè va calcolata la classe in maniera corretta il fatto di mettere un numero che non corrisponde al vero non significa che se quello è peggio funziona meglio no è semplicemente un documento fasullo quindi questo processo di poter fare documenti falsi è una cosa che oggi è sanzionata i documenti devono essere veritieri al momento siamo di fronte a una situazione che viene definita legge imperfetta perché c'è obbligo e manca sanzione per questo fatto però noi siamo sotto per questo fatto noi siamo sotto procedura di infrazione per cui da parte della comunità cronica cronica europea per cui questo uscino lo cambierà molto rapidamente quindi state sintonizzati in materia chiaro? questo è un esempio di un'informazione che ho dedotto torniamo un attimo ai punti termici non abbiamo visto il punto termico geometrico se diamo uno sguardo al punto termico geometrico in quel punto i punti termici geometrici allora qua vediamo una parete con griglia la vedete? vediamo fisicamente non so se riuscite a vedere bene come la leggete? c'è un'altra smittanza diversa quindi la direttura è sempre altra smittanza ci siete? va bene perché riusciamo a vedere quell'informazione perché noi stiamo finanziando T con 2 maggiore del T con 1 se quella fosse isolata correttamente noi non vedremmo questa griglia sarebbe compatta come era una scatola perché il calore tende ad avere una resistenza al passaggio bene quindi le superfici quando le realizzate devono essere regolari possiamo eliminare questo tipo di situazione certo che la possiamo eliminare isolando possiamo eliminare questo tipo di situazione questo non è eliminabile il punto tecnico geometrico non è eliminabile per quale motivo? supponiamo non è eliminabile si può ridurre ma non si può eliminare supponiamo che questo sia il nostro involucro voi come professionisti dovete focalizzare il problema di involucro l'involucro immaginate per esempio il problema del cammino chi è che c'è un cammino convenzionale nell'appartamento il cammino è una cosa da bandire per quale motivo è una cosa da bandire perché per ogni metro cubo di aria calda che esce deve entrarne per questione di bilancio di pressione un metro cubo d'aria gelida altrimenti il sistema non è equilibrato allora se l'edificio fosse completamente schermato il cammino non funzionerebbe perché non ci potrebbe essere deflusso chiaro cioè non avrebbe ossigeno con cui alimentarsi cannibalizzerebbe dell'ossigeno dell'ambiente ovviamente noi non siamo all'interno di edifici completamente ermetici però se il cammino fosse all'interno della casa passiva dopo due o tre ore sarebbe una questione di salubilità dell'ambiente allora qual è la soluzione per tenere un cammino all'interno di un edificio alimentarlo con un canale esterno di aria allora il cammino non è che non si può tenere in edificio non si può tenere in edificio a patto che lo si alimenti con un canale con un canale forzato con una bocchetta forzata e su questa cosa si potrebbero sviluppare tutta una serie di ragionamenti quando voi avete un cammino all'interno di un involucro e tenete le finestre chiuse voi potete c'è nella cartelletta una cosa che vi dice guida la termografia voi vedete proprio degli spifferi intorno agli infissi perché in quel momento gli infissi sono le bocchette che devono per forza far passare l'aria ogni metro cubo d'aria che esce un metro cubo d'aria deve entrare la condizione per eseguire un sopprocento veloce però penso che sono argomenti semplici le condizioni per poter fare quindi un termogramma quali sono? indurre una differenza di temperatura a occhio e croce un buon termogramma viene fuori quando avete una temperatura differenziale interno o esterno di più di 10 gradi se la temperatura se il gap di temperatura è più basso dovete avere macchine con maggiore sensibilità chiaro? quindi il gap termodinamico di temperatura che voi analizzate condiziona la scelta della macchina se state lavorando con dei differenziali molto basi ci vogliono macchine molto spinte allora la differenza tra una macchina di categoria professionale e una semi professionale è questa la sensibilità di termini di temperatura voi con una macchina più sensibile siete più specifici in minor tempo perché dovete sempre gestire il problema della variazione di temperatura se il sistema è a temperatura di equilibrio voi non avete il termogramma non c'è l'abbiamo visto sulla scatola soltanto una battuta per dire per quale motivo il ponte termico geometrico non è eliminabile ma questa è una informazione importante perché poi la utilizzate anche in fase di progetto immaginiamo che questo qua sia il nostro involucro la superficie interna è maggiore o minore della superficie esterna immaginiamo che sia vuoto non ci saranno tre mezzi quindi ci avete una scatolotta un garage la superficie interna di denteggiatura è maggiore o minore di quella esterna la superficie interna è minore giusto? vuol dire che quando T con 2 è maggiore di T con 1 il calore fluisce con ogni centimetro quadrato allora abbiamo una superficie interna che è minore della superficie esterna dovuta a che cosa? agli angoli cioè negli angoli voi come se aveste un centimetro in ingresso e due centimetri in uscita avete presente? no? perché il perimetro dell'analisi interna della pistola corsa è inferiore al perimetro esterno siccome il calore deve uscire allo stesso modo negli angoli non ne può uscire di più ne deve uscire della stessa quantità e questo lo può ottenere il sistema soltanto se si abbassa la temperatura in quel punto cioè noi abbiamo qui un punto termico geometrico perché per questioni di equilibrio termodinamico la temperatura deve essere più bassa perché se la temperatura fosse più alta uscirebbe più calore perché si abbassa di più nell'angolo siccome questo non può avvenire il sistema abbassa la temperatura è chiaro? quindi domani potete eliminare il punto termico geometrico non ci potete fare niente guardate a fare un termogramma e viene fuori il punto termico geometrico il collega che tiene il termogramma e dice sta sviluppando il condensore dice no là c'è un punto termico no là non c'è un punto termico costruttivo quello è un punto termico geometrico ovviamente dipende da quando è esteso perché se è isola da mare è un punto termico se è isola da bere è un po' vicino chiaro il ragionamento? però questo non è indicativo di una cattiva quantità di costruzione è una questione fisica se poi ci vedete anche le travettature e ci vedete la griglia qua le tavelle sta inguaiato per questo ma non sta inguaiato per questo cioè come si vuol dire i due mani vanno sempre a braccetto un'altra informazione importante quando avete un aggetto l'aggetto va isolato all'esterno perché l'aggetto sempre per questioni di equilibrio termodinamico se voi avete questo qua il vostro invorno e qua ci avete un aggetto perché ci stava una menzolina insieme a un segreto un balcone o semplicemente una menzolina sempre per questioni di termodinamica questa mensola aspirerà calore dall'interno proiettandolo fuori come un dissipatore maggiore la superficie di esposizione maggiore è la quantità di calore risucchiato all'interno un aggetto va sempre isolato anche se insiste per 10 cm di sezione l'aggetto va isolato non isolato significa che voi state dicendo all'aggetto togli il calore dall'interno quanto vi costa? vi costa per ogni 5 gradi di differenza 0.8 euro se vi state riscaldando a gasolio chi ha ragione il nostro aggetto è un metro è 6 metri lungo sono 6 metri quadrati questo coso costa 6 euro all'ora cioè uno che sta combinato così ha una bolletta energetica di riscaldamento di 8-900 euro al mese e oltretutto per il fatto che esiste un flusso lui non percepirà nessuna sensazione di benessere dice perché lei riscaldamento però se stai un attimo fermo ottieni sempre dei flussi vicino al camino fate mente locale state seduti così vicino al camino qua bolle da quest'altra parte è gelo perché? perché avete un flusso entrante che qua vi raffresca il motivo è questo siete stancati? no ora arriviamo subito alle domande così vediamo se allora termogramma quantitativo 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 coerente o non coerente non coerente non coerente perché c'è un pezzo di vetro però a noi questa cosa non ci interessa perché se non ci fossero spifferi e ci sono spifferi io vedrei differenti colorazioni ma non differenze di colorazione a pariata di superficie possiamo dire che quelli fisso spiffera ci siete? sì infiltrazioni di umidità aria prendere capetri qua lo beccate subito con la termocamera se c'è uno spiffero di un flusso entrante lo scendolo intercettate subito questa è una bella domanda siamo in inverno problema di riscaldamento invernale non di condizionamento estivo tengo questo termogramma qui sono montati degli infissi basso emissivi in male un infisso basso emissivo è un infisso che c'è un verso di montaggio il lato interno deve essere interno e lato esterno deve essere esterno chiaro? la domanda è quali sono gli infissi montati in male? quelli scuri quelli scuri quelli chiari cioè l'infisso molto male quello scuro quello chiaro mi dovete dire quello scuro però mi dovete dire pure perché questi stiamo dall'esterno questi stiamo dall'esterno se lo quadro non ci vuoi bene ottima considerazione se è nero vuol dire che è più freddo giusto? se è chiaro vuol dire che è più caldo ma se è più caldo vuol dire che io sto sovvenzionando l'infisso chiaro il ragionamento? termogramma qual è il tipo qual è il tipo non mi interessa perché qua io ho l'informazione chiaro? ah beh queste sono delle caratteristiche della termogramma un inciso FLIR ha il 70% del mercato globale FLIR la macchina FLIR ha il 70% del mercato globale gli oggetti che stanno montati sui tomacchi i missili militari cioè tutti quanti sono i sensori FLIR una macchina FLIR è una macchina che ha 10 anni di garanzia sul sensore è una macchina che costa di più ma vale enormemente di più rispetto ai competitori cinesi e tutto quello che resta quindi è sicuramente una macchina oggi è il top di quello che sta in circolazione 3 o 4 mesi fa sulle frontiere italiane hanno montato sensori FLIR per intercettare chi oltrepassa le frontiere cioè è una tecnologia molto consolidata vabbè riscaldamento al pavimento a questo punto avete tutti quanti gli elementi per poter capire che se il programma funziona giusto se c'è un embolo lo visualizzate subito quindi potete in maniera specifica che è il guasto sta lì questo vale anche per i termoscoli di nuova generazione funziona bene il termosifone va fatto il termogramma cioè oggi quando si monta in un nuovo edificio uno di quei bei termosifoni design eccetera eccetera è buono a fare il termogramma per ogni termosifone e noi l'abbiamo vissuto l'arga noi dove siamo in ufficio a Piatini sta un amico che tiene questi cose bellissime tra l'attac termogramma oltretutto mi chiese vieni un attimo a vedere quella macchina termogratica erano tre giorni che stavano svuotando bolle d'aria eccetera eccetera no là c'è stata un'ostruzione su dieci apparecchi tre erano con l'embolo proprio meccanico strutturale hanno dovuto cambiare non ci si poteva fare niente la ditta ha rinunosciuto il problema prima non c'era verso no sono delle bolle problemi d'aria abbattere con il martello per far camminare perché sono a sezioni molto sottile perdite per chiudere l'impianto per esempio questo potrebbe essere anche il caso di questo poi di so per dire no però abbiamo visto quella macchia quindi qua questa è una situazione dove ci stanno facendo un piacere importante il collegio di Giavoli sarà grado una parte dovrebbe contribuire in termini condominiali però pare anche il contrario bisogna vedere devo dire che qua non è che siamo proprio in condizioni qui è chiaro dovete vedere come funziona la facciata aspettate che arriva un'onda termica in modo che si discalda l'ambiente non c'è tanto quando fuori va freddo come è dentro quando fuori va freddo come dentro è chiaro aspettate che venga discaldata la facciata e avete dove stava l'apertura come funzionano le sarciture le simone e tutto quanto il resto infiltrazioni di acqua per quale motivo vediamo le infiltrazioni d'acqua ditelo voi ditelo perché non ho capito che sia dei professionisti è come un buon vedete l'acqua valga scugna vale il coefficiente per idroscopia vale la trasmittanza superficie regione più umida trasmittanza più elevata vuol dire che nella zona dove ci sta umidità è più freddo se stiamo in una condizione di riscaldamento invernale viceversa estivo c'è una perdita di un tubo di gronda mettete subito qual è la zona e qual è il tubo di gronda perché c'è umidità acqua infiltrata sotto la guaria di isolante nel stesso ragionamento in questo caso i colori sono invertiti perché giù fa più caldo qua trasmette meglio e quindi la superficie è più calda è chiaro il ragionamento sono dei concetti molto semplici questa è una bella domanda distacco di fintonaco se hanno una condizione di raffrescamento o riscaldamento condizioni di riscaldamento invernale quali sono le regioni interessate al distacco quella è più chiara o quella è più scura mi dobbiamo dire perché è semplice è sempre molto semplice c'è l'aria quindi c'è l'aria quindi se è riscaldata l'aria c'è l'aria quindi pensate se mi ti è trasmesso e quindi rileva l'aria è minore perché l'aria fa verso l'aria c'è l'aria di distacco quindi c'è l'aria di distacco bene quindi le regioni interessate dal distacco sono le regioni più scure perché trasmettono meno calore rispetto alle altre è importante avere una macchina termogratica attensibile certo che è importante perché le differenze di temperature se il distacco è molto basse allora con una macchina per esempio dell'impiantista correva 100 euro questa informazione non lo leggete perché è un differenziale dovreste eccitare il sistema all'interno portarlo a 28 30 gradi diventa anche complicato un esempio di differenze di macchina professionale con la mino professionale quando la differenza di temperatura elevata non si vedono come immagini non si potrebbe vedere per rendersi conto è uguale è uguale cioè un termogramma è pressoché lo stesso ovviamente prendendo una macchina con più risoluzione e più definita l'informazione però quando la differenza di temperatura è alta è la stessa cosa il problema non si gioca sui dettagli immaginate per esempio che c'è un'infiltrazione d'acqua di uno che ti bagna sopra che fate? ci butterete dentro un settio d'acqua a 60-70 gradi quindi c'è una piccola infiltrazione però l'acqua entrerà cioè se entro un fiume c'è un po' però se c'è un'infiltrazione capillare con una macchina sensibile la vedete bene prima cioè un problema di risoluzione di livello di dettaglio formiche le vediamo le formiche certo che le vediamo perché le vediamo le formiche perché hanno un metabolismo se hanno un metabolismo vuol dire che riscaldano tutto quanto quello che produce riscaldano esatto volevo dare come è fatta una macchina termografica poi c'è un menu che dice mutatore di misurazione a un certo punto c'è un parametro oltre al livello di umidità eccetera eccetera oltre ad impostare la tabella di emissività e esce un altro menu che dice come è fatta la tabella di emissività allora questo è un problema di carenza di isolamento termico questo è l'esistenza che abbiamo fatto per 5 gradi di differenza per 5 gradi di differenza voi avete a gas naturale il muro vale 0.09 euro al metro quadrato il davanzale della foto di prima vale 0.54 che sarà 0.88 per il gasolio il pellet è quello più economico perché costa meno all'origine dunque adesso facciamo una verifica molto veloca avremo bisogno di un po' d'acqua già tutto pronto sarà giallo dobbiamo soltanto mettere in funzione siamo full option allora chi è che si sottopone al testo abbiamo comprato un abbiamo comprato un abbiamo comprato un ci stiamo costruendo un mi laboratorio mobile comunque fa freddo eh comunque fa freddo eh anche salve come un'altra cesta non c'è ma si 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 in lì Grazie a tutti Vabbè, voi due siete esclusi perché già ho visto, siete preparati Allora, chi è che vuole fare un termogramma qui? Prego Allora, chi fa il termogramma e per piacere lo commettiamo Eh, ma così... Stavo sperando... Ho usato il laser per evitare Qual è questo? Tutto lo giallo Allora, non so se siete riusciti a vedere Diciamo, nella parte inferiore del bicchiere sopra Nella parte nera l'immagine è più chiara E mano a mano che si allontano Ma questo è il termogramma da salmiere Io vogliono una cosa scientifica No, stavo commentando la foto a chi non la vede io No, ma qua adesso sei un esperto Vabbè, mi devi dare un'espirazione L'acqua calda è messa nel bicchiere Sta trasmettendo calore verso la parete del bicchiere Diciamo, essendo la fascetta nero Il nero assorbente Sotto un altro, forse C'è più dispersione sulla fascetta E' più calda Forse un'altra... Chi interviene? Ma no, fino a voi mi hanno dato tutte e quattro risposte corrette Dovete utilizzare esclusivamente i concetti di cui abbiamo parlato Per commentare questo, non c'è bisogno di niente altro Questi sono i concetti, solo Se osserviamo in profondità Ci troviamo il problema sotto forma di trasportanza Se prima di far questo No, ora c'è in termini di emissività Cioè il concetto è questo Non è che questa parte qua Dissipa di più o dissipa di meno Questo è uno stato infinitesimo L'emissività di questo è diversa dall'emissività di questo Quindi, qui siamo prossimi a 1 Se la macchina è settata prossimo all'1 Ed è così Qua tengo la temperatura di superficie corretta Al fianco invece Che temperatura, no? Questa è la temperatura dell'ambiente circostante Allora, se io misuro qui So che vale, sarà a 40 gradi Quanto vale? 47,5 47 A fianco quanto vale? 22 22 Perché, presumibilmente Sono io vicino Adesso se tu vedi Probabilmente si vede qualche variazione Penso io, probabilmente Un po', è minimo diciamo Perché in questo caso E' preponderante il comportamento all'interno Però la temperatura qua E' veramente 47 gradi Cioè se io tocco qui E' tiepido Se io tocco qui E' tiepido lo stesso Qua le temperature sono identiche Se io utilizzo un termometro a contatto Puntuale Mi darò la stessa temperatura qui Cioè mi darò la temperatura qui E' qui Identica Quindi è condizionato all'emissività Quindi se io devo fare un'analisi termica Io mi imposto il coefficiente di emissività A fare la superficie che sto osservando Al fianco io non ci posso fare niente Se adesso io qui dietro Cioè qui davanti Ci metto questo Che succede? E diventa un po' come la destra Esattamente Cioè in questo caso Il comportamento di questo corpo Non influenza questa cosa Perché questa è influenzata Dall'ambiente circostante Adesso se io lo inclino Presumibilmente Io vedrò la mia immagine termica Giusto? Perché io sto emettendo L'ho messo con un angolo di deviazione Giusto? Cioè la macchina sta osservando Un bel riflesso lì dentro Quindi il parametro E il coefficiente che bisogna usare In questo caso non ci posso fare niente Cioè io non posso osservare Dall'esterno verso l'interno Perché questo materiale È un coefficiente di anistinità Talmente basso Che si comporta Un oggetto Completamente riflettente Non potete fare nessun termogramma Non ci potete fare nulla Sulla facciata specchiata Invece voi potete ragionare In termini di ermeticità Cioè sulle facciate specchiate Voi non potete utilizzare Una macchina di questo tipo Parliamo ovviamente di facciate Di ultima generazione Quindi non avrebbe senso capire Quanto vale la trasmittanza Quindi è assegnato dal costruttore Cioè uno compra questa roba Ci siete? Però potete ragionare In termini di permeabilità A una differenza di pressione Cioè il sistema all'interno Immaginate per esempio Che il sistema è riscaldato Se non è ermetico Raccontatemi che succede Immaginiamo Facciamo un ricordo Questo è il nostro ambiente Viene riscaldato Qui ci sta Un lucennario Per fare entrare La luce del sole Giusto? Come ragionate? Sei aperto Non è chiuso È chiuso È chiuso Lasciamo Torniamo a mezzo La parola è ermetico Perché se tutto fosse a posto Non vi chiamano È chiuso È chiuso E hanno fatto una situazione Hanno venuto così Adesso vi chiamano A fare un'indagine Che c'è andate? Andate così? No Andate con una macchina termografica Cosa andate a analizzare? Sviluppate il ragionamento Sviluppate il ragionamento Sviluppate il ragionamento Allora il ragionamento Devo sviluppare questo Voi ragionate in termini Di tenuta ermetica Voi volete Assicurarvi che Il vostro lucernario Abbia una tenuta ermetica Come fate? Andate all'esterno E fate il termogramma Non mi interessa Quale è il tipo quantitativo Se tutto funziona bene Non ci devono essere Sbavature termiche Ci siete? Se esistono Sbavature termiche Vuol dire Che il sistema Non è a tenuta ermetica Ma se non è a tenuta ermetica Vuol dire che Un aumento di temperatura Genera una sovrappressione Se c'è una sovrappressione Vuol dire Che sopra l'aria Farà forza Per uscire Ma se l'aria esce Che deve succedere Per questioni di equilibrio Deve entrare in altra aria E' chiaro? Allora Il problema di avere La tenuta ermetica Di un involucro Garantisce Che non ci sia Per fenomeni Di sovrappressione Immissione di aria fredda E' chiaro il ragionamento? Allora Termocampi Chiudo E poi Poi prendiamo un attimo Il problema del programma Allo idaca Perché stava in agenda C'è il caffè Che il collegio Ci ha contestamente Messo in situazione Quindi Gli ambiti di ragionamento Sono diversi Cosa bisogna sapere? Bisogna sapere Come funzionano Determinati processi Perché probabilmente Credo che la maggior parte Di noi Che la maggior parte Di noi Al problema del camino Non ci aveva mai riflettuto Ma il camino E' un buco nero Dal punto di vista Della contribuzione Basta mettere Un sistema convogliato Vicino al camino E il camino Cambia le sorti del gioco Però il problema Del camino Non è il problema Del camino E' il problema Della sovrappressione interna Che voi dovete gestire Se allora Cosa succede? Quando vi chiamano E dite Senti Non vi riscatto Voi dovete fare Un termogramma Di tutto Di tutto Dove ci dovrebbe essere tenuta Dovete garantirvi Che ci sia tenuta Perché per sovrappressione Uscirà dell'aria Se esce aria Entra aria fredda Primo punto Perché possono essere Anche buoni Dal punto di vista Della qualità Di risolamento Ma se spiffera Non avete risolto niente Perché in questo caso Non vi castiga Il parametro progettuale Vi castiga Il parametro costruttivo Quindi sono diverse Le considerazioni Che entrano in campo Stiamo parlando Di un edificio Di nuova costruzione Che doveva garantirvi Perché c'è un altro Piccolo dettaglio Quando voi fate Un ACE Voi Voi Garantite Un edificio Con un consumo A metro quadrato Secondo Riscaldamento estivo Condizione Frescamente Eccetera Eccetera Quindi c'è un parametro Che dice Quest'edificio Quanto consumerà A metro quadrato Durante il periodo Di riscaldamento invernale Se è un ACE Prima del 2009 Il 2010 E' chiaro? C'è un numerino Che dice Quest'edificio Consuma 40 kilowatt Metro quadrato Orari per anno Se quello che ha comprato Fa la moltiplicazione E scrive Quanto costa Un metro quadrato Con questo combustibile Lui ha già Preprogrammato Quando deve spendere Di riscaldamento invernale Se non si trova Con questa situazione L'ACE Non è buono E' chiaro? Se l'ACE Non è buono Vuol dire Siccome questo edificio È stato garantito Con quella performance Termica Il concetto Di mobilità dell'atto Per quando non sancito Dalla legge In materia di risparmio Energetico Però può essere Ricostruito Attraverso il diritto Civile Per questo motivo Al nord I tribunali Sono completamente Intasati Contenziosi E' chiaro? C'è un attestato Certificazione energetica Dice cosa Costa riscaldare Per un metro quadrato 95 kilowatt 120 kilowatt Mettete dentro il costo A kilowatt E sapete quanto costa Un metro quadrato Moltiplicate Per il numero Di metri quadrati Dell'involucro E sapete Cosa costa Il riscaldamento invernale Voi state garantendo Quello Quindi il concetto Di dire Io spendo Quattro soldi Non è un concetto Per fare l'acero Non è un concetto Che trova Un scontro Come vi giocate Questo fatto Questo è un fatto Che vi dovete giocare Purtroppo Da un punto di vista Strategico Bisogna farli In maniera Economicamente Conveniente Però bisogna Farli bene Questa oggi La differenza Chiaro? Cosa potete fare Con la termocamera? Potete fare Una maniera di cose Migliorare i rapporti Con le imprese Offrire servizi All'impresa Quanto costa Far un termogramma Con le imprese Non costa niente Un termogramma È una cosa Che non costa nulla Quello che costa È il valore Di relazione Che voi stabilite Con la persona Che mi fa Del termogramma L'impresa Non costa niente Però l'impresa Non viene da voi Soltanto Del termogramma Se gli date supporto L'impresa Va trovando Il professionista Progettazione Direzione del lavoro E' una cosa Del costo Oggi tutto funziona Secondo i parametri Del comportamento Speculativo Il concetto di dire Sì oggi Bisogna costruire Energeticamente Questo sarebbe Nostra mente Però il mercato Non la pensa così Non è detto Che il mercato Scelga Per il fatto Quello è un edificio Economicamente conveniente Perché probabilmente La priorità Di chi sta comprando È il costo Al metro quadrato Non si è ancora Focalizzato Dal punto di vista Collettivo Quanto è importante Nere un'economia Su risparmio energetico Adesso Che la corrente Sta salendo Come sarebbe Il gas E tutto quanto il resto Il problema Diventerà di colpo Una priorità E si inizierà A piangere Con le lacrime Di compadrillo Per cui Per esempio All'interno dei condomini Tutti qua Non c'è lo specialismo Sapete Non i condomini Sono avvocato Conosco il diritto civico Le persone normali Dispettive Vanno su internet Oggi Di strutturare Di consapevolezza diffusa Allora Accordi quadro Con i condomini Screening E di supporto Fii molto basse 200 euro all'anno 300 euro all'anno Due chiamate Due chiamate Perché un termogramma È una cosa Economicamente Sostenibile Però Quando c'è un problema Di termografia Vuol dire Che c'è un problema Di intervento Allora Il professionista Che riesce a suggerire Un rapporto prezzo Prestazione conveniente È ovvio Che è un'opportunità Il problema Oggi non è che bisogna fare Un progetto Oggi bisogna fare Un progetto Economicamente Sostenibile Bisogna essere bravi A scegliere Delle cose Che costino poco E cambiano Un compromesso Sì La casa massiva La casa De la resistenza Ternica Eccetera Eccetera Tempo di ritorno Dell'investimento 15 anni E quando Ne recupero 15 anni In 15 anni Ne recupero Il fatto Che ho spinto Anche lì Ci vuole Come si può dire Una condizione di causa Oggi più che mai Il professionista Che è in grado Di intervenire Sul problema Della qualità Dell'involucro Ha delle opportunità Come si fa A gestire questo processo Raccontando agli altri Che si è specialisti Diventando rappresentanti Di tecnologie Cioè Gestendo Il vantaggio Tecnologico Quindi Alla base di tutti Raccontate a tutti Che voi Avete iniziato a focalizzare questo Iniziate a fare Il ragionamento Ma tu quanto spendi al mese? Sono tutti sensibili Sono tutti sensibili Perché Il fatto Per esempio Vabbè Io tengo Il mio edificio Se è un condominio Tengo i miei radiatori Non si può fare il capotto Perché non lo consentono Però si può intervenire I denti i radiatori Un intervento economico Quando costa Quest'intervento All'amico Al parente Non costa niente Ma quando ci sarà A fare qualche altro lavoro A chi si rivolgeranno? Cioè Bisogna ragionare In termini di energia Costantemente Allora Se vuole fare un'interruzione C'è il caffè Dopo dobbiamo dare Delle battute Al problema Del protocollo Avete qualche domanda? C'è un problema Del protocollo Integra in piano casa Bene Il protocollo Sapete cos'è il protocollo Integra? Dovrebbe essere Il decreto L'attuazione Del piano casa Come funziona? Allora Il motivatore È la crisi economica E l'attore Dei livelli occupazionali Per questi fini Sono disseminati Interventi Di incremento Volumetico E di superficie Coperta Dai articoli 4, 5 e 6 Interventi Qualificazione Le aree umane Decadate Articolo 7 Con procedure A di vista Di semplificati Io lo sto semplificando Proprio Dal punto di vista Del consumo Veloce Che cosa vuol dire? Il protocollo Integra È il sistema Per poter attuare Quelle che sono Disposizioni Del piano casa Perché il piano casa Introduce un concetto Che sia Che definito Moneta urbanistica Cioè In buona sostanza In buona sostanza Il sistema Cioè Lo Stato Concede Eroga Delle concessioni In cambio Utilizzando Una moneta urbanistica Io consento Una variazione Delle destinazioni D'uso O delle volumetrie A condizione Che tu Mi dai Un indice Di miglioramento Dal punto di vista Energetico Quindi tutti quanti I parametri Che hanno a che fare Con il protocollo Itera Sono parametri Funzionali A stimare La qualità Del miglioramento E' chiaro? Quindi Lo Stato dice Ok tu puoi Ampliare Puoi modificare Puoi distrutturare Puoi variare La destinazione D'uso Se mi garantisci Un livello Di miglioramento Varia 1.5 2.5 Questo numerino E' il numerino Che viene fuori Dai parametri Che vengono inseriti All'interno Di un foglio Di calcolo Protocollo D'Itaca Sono stato chiaro? Dal punto di vista operativo All'articolo 4.5.6 Che riguardano Edifici Residenziali Oppure Rurali Cosa consentono? Con vincolo Di almeno Il 70% Ad uso Abitativo Se in zona Residenziale Almeno Il 50% Ad uso Abitativo Se in zona Agricola Blocco Destinazione D'uso Per 5 anni Quei sono I vincoli Utilizzo In tecniche Di costruzione Con criteri Ecosostenibilità Limite Massimo Pari A 1500 Metri Cubi E tre piani Fuori terra Con questi Vincoli E' consentito Questo Intervento Incremento Volumetico Fino al 20% Per l'edificio Esistente In corso Di realizzazione Incremento Volumetico Fino al 35% In caso Debolezioni E ricostruzione Cambio Di destinazione Di uso Fino al 20% Della volumetria Allora Attesi Le rinconi Sono quelli Quello che si può fare E' quello E' chiaro? Chiaro lo schemino? Purtroppo A luglio Piero a casa Finisce Finisce Prove Lobby Stanno spingendo In questo senso Dopo vi do anche Qualche dato numerico Su quello che riguarda Quale è stato L'impatto Di questo tipo Di processo Per edifici Non residenziali Invece Superficie massima Non superiore A 500 metri quadri Sacro e prospetti Devono rimanere invariati Non è possibile Dare origine A unità immobiliare Successivamente Frazionabili Realizzazione Di copri Interne Finalizzata L'utilizzo Di volumi esistenti Anche con cambio Di destinazione D'uso Bene Questo è vicinato All'articolo 7 Dal punto di vista Del Come si può dire Del livello Di uso Di questa opportunità In testa Il Veneto Con 21 Questo è un dato A Circa Metà Anno scorso Veneto Circa 21.000 Domande Sardegna 5.000 Domande Marche 600 domande Lombardia 232 Domande Campagna Non classificabile Si imputa A questo tipo Di anomalia A due fattori Uno Un problema Di comunicazione L'altro Invece Ha una cosa Che è stata Individuata Da uno studio Che si chiama Indice di modernità Cioè Si è avuto Una maggiore Adesso Il dato Sociale Lasciamo stare I commenti Che ci sono dietro Analizziamo Il problema Da un punto Di vista Ingegneristico Lo Stato Oggi È questo 202 Domande Lì 202 Domande Lì Oltre al motivo Della comunicazione Il motivo Che sta Alla base Diciamo Dell'inquadramento Sociale È questo Una cosa Che si chiama Indice Di modernità Cioè Hanno risposto Meglio Le regioni Con maggior Indice Di modernità Sono studi Pubblicati L'indice di modernità Però non significa Le macchine E tecnologie È una cosa Un po' più complicata Che ha a che fare Proprio con un questionario Che è stato pubblicato Da un po' di noi Che si chiama Stima dell'indice di modernità Sarebbe interessante Provare Anche a utilizzarlo Da noi Come funziona Il protocollo Itaca Il protocollo Itaca Allora Questo qui È in sintesi Il piano gas Quindi Ricordate Articolo 4, 5, 6 Articolo 7 Per infrastrutturazione I limiti Da applicare Sono quelli Che ho menzionato Sinteticamente Quello che si può fare Se volete rivederlo Massimo Tre piano Cioè Lo specchiato Il pirogancio Potrebbe essere questo Quindi Almeno il 70% Uso abitativo Tensore residenziale Almeno il 50% Uso abitativo Eccetera Eccetera Interventi Che potete fare Solo questo L'intervento non è L'80% È il 75% Fino Ad un solo residenziale Cambio di residenziale Questa 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 è Nazionale No Non esistono Oggi Deiloghi Cioè Oggi Questo qui È il modello Piano Casa Campania Sì Adic1 Campania Quindi Nell'aprile del 2011 In Campania Si introduce Il credito Di sostenibilità Energetico-ambientale Perché indipende Al periodo Sostituzione Edilizia Cioè In buona sostanza Si possono fare Queste cose A condizione Che esiste Un indice Di miglioramento Dall'intervento Seguito Per ciascuna Categoria Esiste quindi Un indice Di miglioramento Questo indice Di miglioramento Dipende Dalle categorie Parlo Di un coefficiente Pari al 2 Che cosa è Questo coefficiente Questo coefficiente Viene fuori Da una valutazione Quantitativa Di 5 sottosezioni Cioè Quindi voi Per ogni intervento Che fare Con il piano casa Che deve essere Misurato Con il protocollo Intega Avete da compilare 5 sottosezioni Una sottosezione Riguarda la qualità Del sito Il consumo Di risorse Cari ambientali Qualità ambiente Indoor E qualità Del servizio Ciascuna Di queste sezioni È quotata Con dei pesi numerici Quindi sulla base Dei valori Che voi Imputate Avrete un indice Medio pesato Per ciascuna Sottosezione Il numero Complessivo Risultare Da questa valutazione Del protocollo Intega Deve essere Superiore a 2 Per la maggior parte Degli interventi Questo specchietto Questo specchietto Rappresenta La scala Di l'organizzazione Cioè se il coefficiente È pari A Meno 1 Supponiamo Che voi Dovete fare Un intervento Di amplimento Per incremento Di volume Quindi avete Dei dati Da inserire Per il prima E per il dopo Se alla fine Della procedura Che il reform Indice Minore di 0 Vuol dire Che quello Che avete fatto È peggio Di quello Che erano Se viene pari A 0 Vuol dire Che quello Che avete fatto È esattamente Iguale a Nel caso I coefficienti Che interessano Superiore a 2 Rappresenta Il coefficiente 2 Rappresenta Un miglioramento De prestazioni Rispetto ai regolamenti Vigenti Alla pratica corrente Cioè Per poter poi Rientrare All'interno Del concetto Del concetto Di moneta urbanistica Cioè Quindi Possibilità Di realizzare Dovete rientrare Almeno Con un coefficiente Pari a 2 Come funziona Obdativamente È un foglio E' un foglio Excel Che deve essere Compitato Fatto Con delle sezioni Qua Ci abbiamo Un piccolo esempio In questo caso Noi abbiamo Collegato Da Termiplan Perché Termiplan È il nostro Programma Quindi Fa già Tutta Quanto Una serie Di conti Allora Ci sono Dati Radica Al progetto Quindi Edificio E quindi In termi Diciamo La scheda Di tipo Anagrafico La scheda 112 Riguarda La zona Urbanizzata Per l'uso Del suolo Quindi Bisogna Inserire Dei parametri Per selezionare La scala Di prestazione Zona Urbanizzata Per il consumo Del suolo Zona Bassi Sono dei coefficienti Che bisogna Spuntare Quindi Negativo Sufficiente Un buono Ottimo Cioè Vuol dire Che per ogni Sufficio Voi dovete Pesare Fare Uno screening Di quello Che è Lo stato Dell'edificio E della zona La scheda Per esempio 242 È L'acqua Potabile Per uso Indoor Volume Di acqua Potabile Risparmiato Per uso Indoor Che viene fuori Da un calcoletto Numero Abitanti Previsti Per l'edificio Eccetera Eccetera Per poter calcolare Il fabbisogno Energetico C'è poco Da fare Dovete fare Dei conti Con uno Dei programmi Certificati Perché La stima Il fabbisogno Energetico Oggi In Italia Si può fare Soltanto Utilizzando Programmi Certificati Vi faccio Un po' Pubblicità Lo potete fare Anche con termini Però ci sono Anche altri Ottimi Programmi In altri casi Con corretti Così Non facciamo Un torto A nessuno Se poi Se sembrare Tutti quanti Questi conti Li potete fare A mano Se poi Non ricorda neanche Come si fa Una divisione A due cifre Allora Siete nominati Detto questo Alla fine Voi produrrete Un foglio Di calcolo Excel Di cui dovete Stampare Quattro copie E per a fuori Un foglio Di calcolo Esattamente come questo Una di queste Caselle È il punteggio In questo caso 1.31 È l'inqui Coefficiente Che è venuto fuori Dai a rivelare Su quell'edificio Con 1.31 Non potete andare Da nessuna parte Vuol dire Che voi dovete Tornare sul vostro Edificio Sui parametri Romanessici Non potete fare niente Perché quelli sono Dovete migliorare I vostri parametri Di risposta Dell'involucro Dal punto di vista Eergetico Per poter fare questo Prego Per migliorare Due Due e mezzo Due o superiore Bene Avete qualche domanda? Dovete andare Grazie per la vostra attenzione Grazie per essere stato Suffice Grazie per la vostra attenzione 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 Grazie a tutti.